Vi faccio vedere che cosa ha denunciato questo ragazzo. Ascoltate. Se sono così è perché ieri sera ho rubato questo indumento, ok? L'ho preso, l'ho preteso, l'ho preso di forza perché stanotte dovevo venire a lavorare. Io sono montato alle sette e mezza del mattino, stamattina, e sono venuto qui di nuovo alle quattro di pomeriggio e ho chiamato in reperibilità. Dovevo montare stanotte. Siamo devastati, abbiamo tutti a turno la febbre, la tosse, il primario. Ci scrive nero su bianco che non dobbiamo mettere le mascherine queste qua, dobbiamo mettere le mascherine di velina. E ne mettiamo due che ci protegge al 60%, ci dice. E poi dobbiamo venire con le nostre divise di cotone. Nessuno dice niente. Nessuno. Ci stiamo ammalando tutti, ci stiamo ammalando. Sono un pugno di bastardi perché stanno giocando con le nostre vite e con quelle dei nostri cari. Siamo carne da macello. E io sono qui in una cazzo di tenda con le ambulanze che mi stanno arrivando in continuo con tutti i coronavirus. E non abbiamo più posti in pronto soccorso perché il pronto soccorso è pieno di casi di coronavirus. È diventato un covid center. E noi andiamo con le divise senza mascherine. Solo perché l'ho rubata c'ho questa cazzo di mascherine e questa tuta. Da domani non ci sarà niente. E non si può fare questa vita, non si può fare. Eroi di sta minchia. Siamo carne da macello, non siamo eroi. Siamo carne da macello. Siamo carne da macello.